Un concorso rivolto ai ragazzi di tutte le scuole campane per sensibilizzarli sul tema dell'abbandono dei cani. È l'iniziativa del FOF, Museo del Cane di Mondragone, presentata durante un incontro con i dirigenti degli istituti delle scuole della regione. Accanto al concorso, il museo dedica agli studenti, a partire dai più piccoli, tre diverse iniziative didattiche, comunicando, giocando, movicando. Si scrivono così i nomi delle iniziative, con le lettere CAN in maiuscolo, perché anche visibilmente sia chiaro l'obiettivo di diffondere la corretta cultura del rispetto degli animali a quattro zampe. Il progetto comunicando ha lo scopo di far ravvicinare il bambino ad una specie diversa, quella del cane appunto, implementando, spiegato Gino Pellegrino, direttore della struttura, la conoscenza e il rispetto per il diverso, e questo attraverso una corretta interazione con il cane, per ridurre il rischio di equivoci comunicativi che spaventano il bambino.